Siamo in compagnia di Carlo Sabatini, il suo geno oggi ha battuto il Palermo per 2-1. La mia domanda sarà singola ma divisa in tre. Una vittoria quanto è importante se arriva in rimonta, se è la prima in casa in campionato dopo qualche mese di campionato e se non si è più, si è sempre in zona retrocessione ma non più tra le due che oggi sarebbero retrocessi. Sì, hai detto bene. Tra l'altro ho tenuto contro una squadra che ha nelle ripartenze un'arma micidiale e quindi passare il svantaggio contro questa squadra è rischiosissimo. Infatti abbiamo subito qualche ripartenza, siamo stati bravi a gestirla, a ribaltarla e sono d'accordo che è il risultato veramente importante. Per la classifica anche, anche se chiaramente è solo un primo passo. Ma sono felice soprattutto per i ragazzi perché se lo meritano, perché ribadisco per l'ennesima volta che lavorano tutta la settimana con grande impegno, sotto quell'aspetto non gli possono improverare niente. L'hanno voluta a tutti i costi, hanno giocato con il cuore ed è importante aver vinto in casa perché questo deve diventare un campo ostico e difficile per tutti.